Buongiorno, come va? Come tutti gli anni siamo qua sui Pixel a fare le Skywars con la shader 60fps Non ho le cuffie quindi i suoni li sento attraverso le casse ma vabbè la poca professionalità mi si addice Rifacciamo la stessa sfida che abbiamo fatto l'anno scorso, se facciamo 200 like faccio un altro video dove compro un cosmetics Cosmetico? Cosme... dove compro un cosmetico? Si dice così? Sì sì ok ok E non so vediamo magari un pet, un altro mantello, vediamo quello che ci va Soltanto se facciamo 200 mi piace Commentate con quello che avete mangiato il giorno di Natale E... e... oh posso aprire le soul? Va bene partiamo così Come si aprono? Ok devo cliccare qui ok scusate ho avuto un attimo di difficoltà mentale Ok abbiamo trovato nulla mi sa tutto quello che abbiamo trovato ce l'avevamo già mi sa Va bene... questo qua cos'era? Ah sì sì no no ok prendi prendi Ok ok sono le missioni Non è vero le missioni sono queste qua Mamma mia quanto sto laggando ti prego basta Hypixel! Miglior server del mondo? Chissà quanto sto pingando ma Vabbè 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 Sa! Andiamo su! Andiamo a perdere come tutti gli anni Per caso ho aperto qualche nuovo server Skyworks? Chiedo... chiedo per un amico eh tranquilli non... non pensate male Let's go! Padina in ferro, vino bianco, sempre solite cose Piccone non ce l'abbiamo Se ce l'abbiamo così ce lo faremo andare bene Tanto i diamanti non ci servono Almeno credo Niente lag, basta lag No ma... Che paura Posso rompere l'oro con il piccone di pietra? No non penso proprio Allora farò il caschetto Così non mi fanno la multa Andiamo shantro Ok eccoci qua Avevo il secchio d'acqua ma... No 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 Doveva andare così Ed è andata così Era pure scarsissimo Potevo ucciderlo senza problemi ma Non ci possiamo fare Niente Non ci possiamo fare niente Com'è stato questo 2023? Tra vi è piaciuto? Oppure no Tanto ci sono tantissimi altri anni Ancora purtroppo Quindi anche se è andato male Vi rifarete però i prossimi anni Drangwilly Si parte Comunque giocare senza cuffie È davvero qualcosa di brutto E anche questo lag Non scherza mica Dai su basta laggare Tac 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 Ok stavolta speriamo di non morire come Di pazzi Corazzo in ferro Se riusciamo a farla No non si può laggare così Impossibile Siete contenti che esce il nuovo gioco di Dragon Ball Mamma mia Stavo dicendo siete contenti che esce il nuovo gioco di Dragon Ball Io sì tantissimo Non vedo l'ora Spero esca il più prima possibile Così posso smettere ufficialmente di uscire di casa Già lo faccio poco Ok allora Mi serve il banco di lavoro Però facciamo 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 la spada Di diamante Così E il caschetto come prima Ok Non male Devo dire che Non è male questa situazione Ho vissuto di peggio Speriamo di non cadere Di non morire Ok I pixel Non devi laggare così Non c'è nessuno vero Perfetto No ho visto qualcuno in lontananza Aveva C'ho scritto yt nel nome Quindi non dovrebbe essere particolarmente duro da rompere No scherzavo Ci farò il culo a strisce Esatto Eh vabbè Eh vabbè Non mi aspettavo di certo di vincere Livello 28 Porca miseria Probabilmente era qualche Qualche disguise Sono le 14 e 32 Dopo questo video Tornerò a giocare a God of War Ce la facciamo? Mamma mia Ma quanto sto pingando? Non pingo neanche Sto crashando mi sa Ecco Oddio No allora La challenge va fatta sui pixel Quindi non possiamo cambiare Ma è andato off il server? Ma sul serio? Come faccio a registrare il mio video se no? Dai su Ai pixel Oh Andiamo in single player Creiamo un nuovo mondo In creativa Chiamiamo Buon anno Let's go Perché non ho la skin? Non mi sa che si è bloccato internet Ma può essere che si sia bloccato internet? Perché? È vero No Si è proprio bloccato internet Perché? Aspettate che entro nel modem a vedere Cosa è successo Ok bene Dovremmo essere tornati in rete Vediamo Ok Ci siamo 171 ms No Non mi fa entrare Refresh E proviamoci Ok Ce l'abbiamo fatta Bene Oh il trampolino Fium E beh Lag che mi porta giù Sto facciamoci un'altra bella partitona Sono sicuro che andrà bene Sarebbe figo riuscire a vincerne una Ma Penso sia possibile Via 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 Veloce 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 come il vento Voilà Siamo messi Malissimo Vabbè fermiamo un attimo almeno Magari riusciamo a farci un elmo Qualcosa No Possiamo fare niente Perché non ci sono risorse Sono davvero basito Andiamo con la speed Così siamo più veloci Ah ma è speed 1 Non è più speed 2 Che cavolata Ok sicuramente quello lì ha forza In questo momento Però ora dovrebbe essere scaduto Ok Mela 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 Dove cavolo è Ok Esploso Andiamo No 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 Ho dato un colpo al microfono Scusate E questa Poteva andare molto meglio Eh vabbè È andata così È andata così Ci possiamo fare qualcosa No Ma esiste ancora il Bedlion client Io ormai da un po' Che uso il Lunar Non mi ricordo perché Non usassi più il Bedlion Addirittura dicono che Boosti più gli fps Del Lunar Comunque sì esiste ancora Ho piano guardato il sito Attraverso il mio dispositivo mobile Non siamo messi No beh stavolta siamo messi Molto molto bene Ora non abbiamo il piccone Oh sì ce l'abbiamo Questo è quello che voglio Ci facciamo Le scarpe Oppure l'elmo In base a quanti materiali Riusciamo a tirar fuori Arriva qualcuno Sentivo dei passi Sarò pazzo Ah no Non c'è nessuno Sì ha fatto il ponte Ma non ha fatto niente Meglio così Paschetto E andiamo Che non ha finito il ponte Questo disgraziato Non c'è più nessuno qui Allora vado a prendermi I loro materiali Facciamo la vanilla Mi faccio full ferro La spada di diamante Un po' di camping Va sempre bene Qua non c'è la chest Eh scusatemi la chest Il questo La crafting No 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 aspetta Ti devo fare le scarpette E ora dovrei farmi il piccone di diamanti C'è il piccone di ferro Tanto siamo ancora in tre Spero che non venga nessuno Ok Bene 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 Ok diamanti Prima cosa E la spada di diamanti Poi se riuscissi a fare anche il corpetto Sarebbe bellissimo Che ne abbiamo Cinque No quattro Quattro Siamo rimasti in due Quindi dobbiamo essere svelti Sette Cavolo Vabbè faccio i pantaloni Ora è fila Peccato di un diamante Non abbiamo potuto fare La cosa La corazza La storia Sì qua non c'è niente di interessante Mi servirebbe una ender pearl Almeno posso volare Via felice Le chest qua Un arco Va bene Ho campionato così tanto Che mi sta scendendo pure la fame Dai una ender pearl Mi serve È impossibile trovarla Mi sta qua Porca Porca No Non ci credo Lui l'ha trovata invece la perla Non ho parole Vabbè Va bene va bene Va bene Basta basta Per oggi può andare Per oggi può bastare No no anzi Ne facciamo un'altra No 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 Ancora uno Ancora uno La facciamo tutta spiddata Mi butto subito al centro E vediamo cosa succede Ok via 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 Andiamo tutto molto Rapidamente E buttiamoci al centro Poi sicuramente verremo Clean appati Ma Ok andiamoci subito Ok ne arriva già uno Mamma mia che mira Ok sono più grosso io Perfetto Non c'è nessuno? No qualcuno mi sa che è già passato Porca croca Questo qua È bello grosso 80 kg di latomachine Eh no niente Vabbè Però non è andata così tanto male Va bene Va bene Va bene così Dai il video è finito Godetevi L'outro Di Mr Bean Ci vediamo il prossimo anno Con un altro video Vi ricordo la piccola sfida 200 like Nuovo video Con un cosmetico Fatti bravi Non fate cavolate Ci vediamo Ci vediamo Prima o poi ci rivedremo Ciao